Oh, noi siamo quello che siamo, perché il Palermo è quello che è, ma l'arbitro è inguardabile, l'arbitro è inguardabile, non si può espellere Lucca in quella maniera lì, boh non ci sono giustificazioni, non ha protestato perché se uno giocatore subisce fallo cosa protesti? Non è quel discorso, chissà cosa cazzo ha visto le allucinazioni, perdonatemi, ma qualsiasi cosa abbia fatto ci vuole buonsenso e non è l'unica cagata che ha fatto l'arbitro in questa partita qui, non si può guardare un arbitro in queste condizioni, ci vuole rispetto per il Palermo, mi hanno rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni, punto e basta. Detto questo, la squadra è quella che è e sono stanco di commentare partite del genere, prendiamo la partita con il Catania e dimentichiamola, perché come dicevo nello scorso video che ho fatto, come andatelo pure a rivedere, io ho sannato la squadra per quanto riguarda quella partita, quindi nel racconto di quella partita, poi ho anche detto che ci vuole continuità, perché il derby è una partita a sé, il derby ha motivazioni, come lo stanno dicendo tutti, il derby ha motivazioni che vanno oltre la partita stessa, vanno oltre il momento, anche se comunque il Catania quelle motivazioni non le ha avute, le abbiamo avute noi, però va bene essersi caricati bene per quella partita, ma questo è il Palermo che noi conosciamo, anzi peggio, perché Boscaglia quattro gol non li aveva mai presi, mai presi, possiamo dire tutto che vogliamo di Boscaglia, ma quattro gol in casa non li aveva mai presi Boscaglia, siamo passati in vantaggio su una cagata da Juve Stappia, ci siamo illusi perché siamo partiti in quarta, noi partiamo in quarta, io quando vedo una squadra che parte in quarta è perché ha qualcosa ora a farsi perdonare, o perché ha paura, o perché vuole far vedere chissà che cosa, ma non è un atteggiamento di una squadra, ci fa piacere vedere una squadra che parte subito aggressiva, ma l'aggressività iniziale deve poi avere un equilibrio durante tutta la partita, non è possibile che partiamo così e puntualmente poi ci sciogliamo, non è quello il discorso, il discorso qual è? Silipo bene, Silipo mi è piaciuto per i primi 30 minuti, perché l'inserimento di Silipo è una cosa ottima, questo ragazzo deve giocare, Rauti, dici ok, è in panchina perché comunque Trentson davanti, Floriano ha fatto benissimo oggi, non possiamo dire nulla a Floriano, quindi come fai a togliere Floriano? Come fai a togliere Silipo, Rauti, la vera che probabilmente potrebbero metterlo al posto di Lucas la prossima partita e provarlo come punta, però non è tanto adesso andare a trovare cos'è che a livello offensivo non ha funzionato, perché comunque noi continuiamo a fare azioni e non segniamo che è lo stesso atteggiamento che avevamo con Boscaglia, mettiamo ste palle al centro che puntualmente sorpassano la zona di Lucca, oppure azioni confusionali, certo poi in mezzo a tutto questo caos due o tre tiri buoni i tiri fuori, ma non si attacca con ordine, non c'è precisione, si tira poco da fuori, cioè, vabbè, andare a fare sempre questi discorsi ormai ci siamo stancati, perché sono sempre questi discorsi, Palermo ha sempre le stesse difficoltà, perché cambi, quello che puoi cambiare è anche l'aspetto tattico, il 3-4-3 mi piace, perché è l'età, sembra una squadra che è più propositiva, però dietro, ragazzi, ci hanno inculato in maniera vergognosa oggi, ci hanno veramente trapanato come veramente manco Valentina Nav, cioè, nel senso, ragazzi, allora, veniamo al dunque, quello che voglio dire è che forse c'è bisogno anche di un allenatore, è brutto dirlo, c'è bisogno di un allenatore vero, perché non è possibile prendere quattro gol in casa, cioè, ragazzi, io avrei immaginato, avevo immaginato che Filippi sarebbe rimasto al massimo mantenendo lo stesso rendimento di Boscaia, più o meno, allora, male, lo tieni, ma se la situazione precipita, come precipitate in questa partita qui, cioè, hai bisogno di un allenatore vero, vero, che punti adesso a un po' di equilibrio, perché, ti ripeto, il derby è stato male, forse, in questo momento qua, ci ha fatto illudere più di quello che potevamo immaginare, il derby, l'ho detto anche settimana scorsa, è una partita di Champions League, il rendimento in Champions League e il rendimento in campionato sono differenti tra le squadre, se tu vinci in Champions League non hai detto che tu faccia bene anche in campionato, ecco, il derby è una finale di Champions League, non puoi paragonare, cioè, non puoi pensare che quella finale di Champions League dica tutto dell'altra squadra e ti dia certezze sul rendimento in campionato, quindi prendiamo e dimentichiamolo, come ho già detto, una squadra che si fa trovare, scoperta in questa maniera qui, quattro volte su quattro, con quattro tiri in porta da Juve Stabia, quattro gol, è inaccettabile, vuol dire che c'è una carenza tattica mostruosa da parte di chi ci sta allenando, perché non è possibile vedere una roba di questo tipo qua, non si è mai vista, io con Boscaia non l'avevo mai vista, mai vista. La squadra mostra una sensibilità emotiva scandalosa, cioè, sembra una persona proprio instabile emotivamente, basta poco per tirarla su, basta poco per tirarla giù, in maniera importante, cioè, cambia, cambia, una squadra che all'inizio sembrava poter spaccare il mondo, dopo il pareggio si è dissolta nel nulla, giocatori che non corrono più, giocatori, ok, poi si è un po' ripressa nel secondo tempo, ma, perché comunque ha trovato un po' la forza, però, vedete, vive nell'emozione, come una coppia che un giorno si scettiamo, un giorno dopo non si ama più, poi si li ama ancora, cioè, instabile, proprio, instabile emotivamente questa squadra qui, inguardabile, inguardabile, basta, prendiamo atto che siamo questi, punto, speriamo di arrivare almeno, come posso dire, agganciarci al treno playoff, almeno per poter dire che in questa stagione almeno ci abbiamo provato, perché ormai è questa, è così, è così, ragazzi, non c'è, non possiamo tirar fuori niente di meglio da questa squadra, secondo me, siamo instabili e punto e basta, non ci sarà continuità, e questo mi dispiace da dirlo, perché, veramente, basta vedere, ok, che manca, per esempio, al Mici oggi è stato, viene un infortunio, e mi dispiace vederlo in quelle condizioni lì, inguardabile, il Mici deve ancora recuperare, ci manca il Mici, ci è mancato per tante giornate, era un giocatore fondamentale per noi, ci manca ancora, e, veramente, ragazzi, non so come dire, non giustifica niente questo, però è veramente brutto vederlo in quelle condizioni lì, Luperini oggi doppietta, possiamo fare menzione anche al povero Luperini che è sempre spesso offeso e denigrato, Luperini è questo, cioè Luperini, negli inserimenti è bravissimo, cioè segna, però se devi mandarlo in attacco, poi dietro, chi ci sta? Ci sto io? Siamo sempre lì, ci vuole equilibrio, cioè io non riesco più a... Ora andiamo a vedere Paganese e Palermo, la prossima, cosa fai a vedere, cosa speri? Che la vinci, poi quella dopo la perdi, poi la pareggi, poi due sconfitte, un pareggio, andiamo avanti così, andiamo arrivando, ci attacchiamo all'ottavo posto, settimo posto, sempre che vada bene, e poi buonanotte. Ragazzi, niente, non c'è altro da dire, basta, mi dispiace, mi dispiace.